Come ha detto Stefano, prima di pranzo si mi aveva già smontato WordPress perché ha detto appunto che andremo a migrare verso dei CMS o comunque dei sistemi web senza database, tornando di nuovo al markdown e tutte quelle belle cose appunto che ha detto Stefano. E' anche vero per carità di Dio, però allo stato attuale delle cose come si dice siti di una certa rilevanza internazionale sono realizzati ancora sulla piattaforma WordPress, alcuni su Joomla, alcuni su altri sistemi, Drupal e che dir si voglia. Allora questo toy che appunto è su WordPress che possiamo vedere nell'ultima versione, la 492 o 494 che tanto sono identiche in quanto una praticamente ha risolto dei piccoli bug che erano all'interno. Ma stiamo aspettando la versione 5 che porterà veramente delle grandi innovazioni soprattutto per la parte dell'editore. Allora, come si installa un sito realizzato in WordPress? Come si installa questo CMS? Si installa su un server web dove nel mio caso è stato realizzato tramite un server LAMP Linux Apache MySQL PHP. Informazioni si trovano facilmente consultando motori di ricerca in rete come installare un server LAMP su una macchina Linux Unix. L'installazione di WordPress dentro a un server LAMP funzionante è molto semplice in quanto sarà necessario intanto andare a scaricare l'ultima versione della piattaforma WordPress già realizzata in lingua italiana, quindi già localizzata e tutto attraverso il sito dell'organizzazione di WordPress. Successivamente ottenuto il pacchetto, il pacchetto si decomprimerà e si andrà a posizionare nella directory standard che di solito è var www di un server Apache. Bene, facendo questo per procedere all'installazione di WordPress noi ovviamente abbiamo bisogno di che cosa? Delle credenziali di accesso come amministratore del server MySQL contenuto all'interno della macchina dove vogliamo andare a lavorare o comunque del server che gestisce i database in MySQL, l'indirizzo IP della macchina dove dovremo far girare il nostro sito WordPress e il nome del database che dovremmo utilizzare. Queste informazioni ci serviranno perché al primo avvio del file index PHP che si trova dentro nella cartella di amministrazione di WordPress che sarebbe wp-admin il server ci presenterà una pagina grafica in cui ci chiederà tutte queste informazioni. perché nella prima installazione dentro nel file di root, chiamiamolo di WordPress, nel folder, nella cartella principale non è presente il file wp-config.php che potete vedere praticamente in questo documento che vi ho messo, proiettato. Perché? Perché ogni configurazione è fine a se stessa, ogni configurazione va fatta su una tipologia di server o di servizio che solo l'amministratore del sito conosce. Pertanto era inutile dare un wp-config.php già con delle informazioni all'interno in quanto sarebbe stato eseguito e avrebbe portato a una segnalazione di errore perché i dati contenuti da dentro non sarebbero stati quelli corretti per portare il sistema di Apache e di web andrà a trovare praticamente sia il server che ospita il database MySQL sia il server che ospita la cartella intera padre di WordPress. Quindi all'interno del file wp-config.php attraverso quella schermata di installazioni WordPress andremo a definire quelle che saranno dopo le nostre variabili principali per far funzionare il sistema quindi il db name quindi il nome del database il db user che sarebbe il nome dell'utente amministratore del server MySQL il db password quindi la password dell'amministratore del server MySQL il dbhost che è il numero ip o il nome macchina di dove è ospitato il server di WordPress dopodiché ci sarà un campo in più che sarà il libicharset che dalla versione 4 e 6 non è più utf8 ma è utf8 mb4 che dice praticamente di adoperare il carattere in formato utf semplice fatto questo se la procedura è andata a buon fine e soprattutto l'utente che ha lanciato la chiamata al sito web ha i permessi di scrittura dentro a var www verrà creato il file wp-config.php oltre a questi dati qua la prima schermata grafica di configurazione di WordPress vi domanderà qual è il nome utente e la sua password del amministratore del sito WordPress normalmente il sistema propone un nome utente admin e la password a vostro piacere allora io a meno che soprattutto se si tratta di server di produzione di server esposti in rete internet eccetera sconsiglio vivamente di lasciare il nome admin perché tutti quanti i sistemi di cracking esistenti in giro per il mondo vanno a bussare nei server web che trovano aperti e se trovano una piattaforma di tipo WordPress propongono di forzare la password di amministratore proponendo proprio il nome admin quindi se io vado a scrivere Pippo già praticamente è un nome di forme no? a quello dell'admin ma comunque vi consiglio di adoperare dei nomi che non siano contenuti in un dizionario quindi già Pippo è il nome che potrebbe avere un cane oppure del personaggio dei cartoni animati eccetera ma se voi per esempio chiamate questo utente lo chiamate non so SR underscore 1234 prima che i sistemi di hacking in rete riescano a trovare un nome utente che corrisponda a questo ne devono fare di tentativi di forzatura comunque mettete possibilmente questo qua sarà il nome utente amministratore cioè quello che ha il profilo più alto e che può anche distruggere dopo il vostro sito in WordPress quindi valutate bene questo nome utente fatto questo il file wp-config.php verrà scritto e come il pulsante entra nel sito vi porterà a avere praticamente un menu più o meno similare a questo vabbè in questo caso il sito è in costruzione quindi dobbiamo entrare allora nella pagina principale del nuovo sito che avete appena installato sotto in basso ci sarà praticamente un una scritta che vi porterà praticamente alla pagina di access per accedere al sito nel qual caso invece come in questo caso ho messo il sito in costruzione oppure voi nel vostro tema di WordPress avete voluto togliere il riquadro che vi porta praticamente alla pagina di login no normalmente a meno che non si vada a cambiare con appositi plug-in proprio per evitare che i motori automatizzati trovino una pagina d'accesso aggiungendo il codice wp-admin all'url del vostro sito vi porterà alla pagina di accesso ok nella pagina di accesso voi avete che cosa il nome utente che vi sarete trascritti con la sua bella password no sperando che sia questa quindi entrerete dentro nella pagina di amministrazione di WordPress quindi questo è il vostro primo accesso come amministratore nel nuovo sito che avete creato allora andiamo a vedere volevo andare a togliere a scegliere il tema no 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 non per scegliere il tema volevo togliere la eccolo qua come in su un maintenance mode in questo caso io non sto adoperando uno dei temi originari di WordPress ma già io avevo creato perché siccome collaboro e utilizzo questo tema che si chiama e-excel su diversi siti che amministro avevo utilizzato questo tema qua per fare dei test io adesso vado a togliere che il sito è in manutenzione se vado no aspetta senza mouse è praticamente da ridere ecco qua questo qua è il sito come appare non essendo in manutenzione come vedete qua sotto c'è un campo meta no è il famoso campo che vi dicevo che vi sarebbe comunque uscito alla prima connessione con la pagina del sito attraverso amministra il sito esci rs articoli il campo meta vi permette praticamente di fare il login come amministratore al vostro sito quindi qua voi avete già un sito funzionante tornando di nuovo sul nostro file di configurazione noi abbiamo la possibilità anche di fare delle installazioni particolari di wordpress dove gli diciamo guarda l'installazione di wordpress funziona su questo sito dove ti ho inserito la cartella wordpress con tutte quante le sue cartelle di amministrazione eccetera eccetera ma il sito il server che contiene il database correlato a wordpress si trova su un altro server e allora con questa linea qua dentro nel file di configurazione define dbhost environment database server gli vado a mettere il numero dell'ip della macchina che mi fa da server mysql che potrebbe essere un'altra chi fa installazioni su ovh chi fa installazioni su aruba chi fa installazioni su comunque dei service provider esterni sa benissimo che vi danno un'area ftp su una macchina e dopo la gestione dei server mysql si trova su un altro ip che è un'altra macchina che sia fisica o che sia una macchina come si dice virtuale praticamente a voi poco importa avete due ip diversi no dopodiché parliamo di sicurezza installando il server wordpress in questa maniera ancora non abbiamo stabilito nessuna procedura di sicurezza no se non quelle che vi ha dato il vostro provider che vi fornisce i servizi cioè la possibilità di collegarvi dentro in sftp per pubblicare le cartelle e di avere password più o meno complesse per accedere praticamente dentro nel loro portale no wordpress permette anche di generare delle chiavi di sicurezza per proteggere la parte dati di wordpress la parte codice con la parte del database genera queste due chiavi di sicurezza che sono sincrone ogni qualvolta che voi proporrete una modifica no il database si aspetta praticamente che la modifica che voi gli state mandando perché le modifiche vanno scritte comunque sul database contengono comunque la chiave di sicurezza se non c'è la chiave di sicurezza il database non si farà scrivere ok bene dopodiché da circa 8-10 anni c'è il brutto vizio in rete che ha scoperto che la maggior parte dei siti che sono gestiti su uno o più database si possono bucare cioè ci si può introdurre malevolmente facendo delle SQL injection cioè inserendo del codice da fuori in qualche maniera finché verrà salvato dentro nel database ok questo purtroppo accade tutt'oggi da coloro che lasciano sprotetti i moduli dei commenti e le pagine praticamente di registrazione dei moduli di contatto dove chi è fuori prova a mettere codici SQL nel campo oggetto nel campo via nel campo note e prova praticamente a farle arrivare dentro al database no e questi qua sono anche dei brute forcing cioè avvengono praticamente fatti vengono fatti in forma brutale cioè non una al secondo vengono fatti 100 200 tentativi al secondo perché sparano tentano di ricaricare la pagina e buttare dentro ogni volta del codice diverso finché tentano di superare quello che è praticamente la barriera di sicurezza nelle configurazioni più particolari di siti commerciali eccetera io consiglio di andare a cambiare il prefisso delle tavole del table prefix delle tabelle più che altro del database dove lo standard è wp underscore perché siccome è previsto dal file di configurazione dai file di installazione anche chi ha intenzione di aggredire un sito WordPress si è scaricato i file originali di WordPress per vedere dove ha la possibilità di passare se io vado a cambiare il prefisso delle tabelle invece di wp underscore metto wp2 underscore wp4 meno tutti i tentativi che vengono fatti di SQL Injection dove dicono vai dopo a mettere quel codice malevolo che ti ho dato dentro la tabella che ne so collate admin di WordPress nella tabella che però inizia per wp underscore wp underscore nel vostro sistema non esisterà quindi quel tentativo andrà praticamente a cadere perché il database se non lo prende lo scarta ok mi sono spiegato praticamente gli cambiamo strada dopodiché adesso abbiamo negli ultimi tre anni anche i siti di e-commerce un sito di e-commerce prevede un database che gestisce gli articoli gli utenti le categorie il portfoglio e tutte quante le belle cose che gestisce un normalissimo sito di WordPress più ci sono uno o più database in più collegati che gestiscono la parte dell'e-commerce l'e-commerce che può essere un database contiene gli articoli la quantità disponibile da mettere in vendita e ci potrebbe essere un database che gestisce le immagini degli articoli qui cambiando il prefisso delle tabelle dei database e ovviamente il nome del database io ho la possibilità di proteggere tutti quanti i database che sono collegati all'unico CMS di WordPress questa nota qua che vedete nota prima di modificare un sito funzionante questa è la regola d'oro che deve arrivarvi in mente quando accendete una macchina che vi collegate e vi collegate a un sito da amministrare e quando avete finito di amministrare un sito cioè fate sempre un backup prima di iniziare a lavorare perché perché può darci che le modifiche che andate ad apportare non vadano a buon fine e necessitiate di avere che cosa un punto di partenza da cui ricominciare a lavorare normalmente la maggior parte delle utenze dei clienti delle persone a cui ho insegnato o praticamente con cui collaboro ha a fianco sullo stesso server o su un server affiancato a quello di gestione sia del sito quindi la parte PHP sia della parte di database un bellissimo sistema di backup giornaliero e nei casi di e-commerce anche orario ogni ora ogni tre ore ogni sei ore e via così perché perché la perdita di un dato no cosa significa aver perso potere commerciale se vi tirano giù un sito se riescono a entrare dentro al database principale e non solo ve lo segano o peggio ancora vi mischiano dentro tutti quanti i dati voi avete delle tabelle scritte piene di porcheria non riuscite a capire cosa era quel record no e se non avete un backup è come vi avessero bruciato il database dentro al al sito ah sì dentro al file wp-config .php possono essere definiti a mano perché se no andrebbero a finire dentro nella parte database ma io posso definire anche a mano dentro nel wp-config qual è praticamente il nome no il nome del sito il nome reale e il nome che voglio far apparire fuori l'alias e posso definirlo tramite quelle due righe di define col sito url e col wp-on stessa cosa per rendere diverso da un'installazione standard il mio sito wordpress posso addirittura dire che le cartelle wp-content cioè quelle che conterranno praticamente le categorie e tutti quanti i dati che io andrò a inserire a creare dentro nel sito non sono posizionate nella posizione standard all'interno della directory bensì da un'altra parte in maniera tale che se una persona riuscisse a entrare dentro diciamo nella parte di gestione file tenterebbe di andare a danneggiarmi delle cartelle dove dentro effettivamente i dati non ci sono perché sono stati messi da un'altra parte oppure per determinati tipologie di siti io posso creare praticamente le cartelle separate da una parte o dall'altra come vedete ci sono varie possibilità di fare degli spostamenti di directory no? nello stesso modo ed è una cosa pericolosa se un sito wordpress non viene amministrato correttamente se noi diamo in mano a più editori un sito wordpress queste persone cominciano a portare dentro immagini filmati eccetera così e magari vanno a riempire la cartella no? dei file salvati in ingresso di solito sono le immagini che si vanno a inserire dentro negli articoli o le immagini che possono servire o dei pdf che possono andare a finire dentro nell'archivio del sito eccetera io posso benissimo andare con la funzione define uploads a dire che la cartella che conterrà che conterrà i file che vengono caricati dall'editore o dall'amministratore non sarà nella posizione ordinaria ma la metto che ne so su un altro host di grandissima capacità dove non ho problemi che un utente mi possa mettere dentro 10 giga di roba altre impostazioni che si possono inserire su wp-config php per esempio se voi avete a che fare con degli editori alle prime armi queste persone si mettono a scrivere un articolo e non salvano mai l'articolo durante la sua editazione quando un utente scrive un articolo su un sito a meno che non si trovi sul stesso computer sulla console della macchina che ospita wordpress ovviamente è un utente connesso in http o https quindi via web al server e praticamente ha una pagina di edizione ma effettivamente non sta scrivendo nulla sul sito sta ancora scrivendo sul suo browser quindi fino a quando non avrà salvato la prima volta il database di là non si riempirà dell'articolo che sta venendo scritto ok se noi invece come amministratori andiamo dentro a wp-config php a dire define autosave interval 60 che piaccia o no all'editore o a colui che è dentro a editare l'articolo o a fare una modifica di un post o dei commenti o di qualsiasi cosa il server wordpress ogni 60 secondi andrà a salvare l'operazione che viene fatta in quella pagina che sia una pagina di modifica che sia una pagina di edizione e via così chi ha già lavorato su un server wordpress su degli articoli sa che io posso iniziare a scrivere un articolo lo pubblico l'anno scorso poi quest'anno ci torno sopra perché perché sono uscite delle versioni nuove del software che io avevo spiegato in quell'articolo e continuo praticamente a dire guardate che da quest'anno c'è questa miglioria eccetera sotto se vado a vedere nell'articolo c'è scritto chi è entrato a fare modifiche quando a che ora e di solito questa lista è lunghissima tante volte quanto una persona ha salvato o ha pubblicato o ha modificato l'articolo bene noi sempre dal wp-config php possiamo far sì che quella lista non sia lunghissima ma gli diciamo define wp-post-revision 5 fammi vedere solo le ultime 5 revisioni di quell'articolo di quella pagina di quel portfoglio e via così dopodiché possiamo decidere se farle vedere le revisioni oppure no in maniera tale che l'editore veda o non veda chi ha revisionato quell'articolo dando che cosa sempre in wp-conf e php la regola define wp-post-revision files bene la maggior parte dei siti che contengono molte informazioni molta grafica molti servizi attivi sulle proprie pagine necessitano per essere visualizzati in maniera veloce di avere un servizio di caching in maniera tale che la prima volta che io mi collego a vedere quel sito internet sono costretto a scaricarmi tutta quanta la pagina che sia in questo caso css php e via dopo di che cosa succede il server WordPress in questo nostro caso manda anche i dati di cache al browser che sta visualizzando quella pagina se l'utente si ricollega a quella pagina tra due settimane e la pagina del sito non è stata modificata il server e il client quindi l'utente si scambiano i dati di cache se la cache non è cambiata i dati di cache non sono cambiati il pc della persona non caricherà di nuovo la pagina dal server ma bensì andrà nella cache del computer a far rivedere l'ultima pagina caricata la settimana precedente per far questo anche da wp-conf php io posso dare la regola define cookie domain dando l'url www nome del sito punto it quindi quando qualsiasi utente che abbia caching attive o caching disattivate va a visitare qualsiasi pagina o sottopagina di quel dominio url gli verrà inviato comunque praticamente il file di caching per quanto riguarda invece la costante define wp-allow multisite prevede chi chi amministra più siti no e soprattutto li ha sul proprio server sulla propria macchina io posso avere una macchina un server lamp con dentro 12 siti wordpress e con l'allow multisite mi si apre una sola pagina di amministrazione come quella che avete visto prima che è questa vediamo un po' , eccola qua l'unica cosa che qua in alto sotto bacheca non avrò soltanto questa home ma avrò gli url quindi i nomi di dominio di tutti quanti i siti che io posso amministrare da una bacheca singola avendo fatto un solo accesso come amministratore perché se ho tutti i miei siti fisicamente su quella macchina dove ho fatto l'accesso io automaticamente basta che cambio il sito selezionato in alto e ho praticamente la stessa scrivania dashboard di comando per far questo per generare il sistema multisito su wpconfig bisogna andare a abilitare la regola define wp allow multisite true quando invece si va a fare amministrazione e manutenzione per i siti perché è un lavoro anche questo a volte non si riesce a capire dove il cliente è andato a mettere le mani e soprattutto effettivamente perché il sito rallenta perché il sito non visualizza determinati componenti plug-in che magari l'utente ha voluto installare allora per far questo l'amministratore di siti che ha l'accesso praticamente in scrittura alla cartella var www dove abbiamo posizionato la cartella wordpress può andare ad abilitare i vari sistemi di debug che vedete scritti in quei define che sono lì in base ai vari sistemi di debug attivati creando all'interno della cartella wordpress un file php come descritto la if current user eccetera no se l'utente se l'utente praticamente fa girare questa questo script php è una persona che ha la posizione di amministratore allora praticamente gli darò tutti quanti i miei dati di debug consultando la tabella di debug che verrà presentata da questo file php l'amministratore riuscirà velocemente a capire che cosa c'è dentro a il motore di wordpress che non sta girando nella maniera corretta questo è un piccolo trucco però vi posso assicurare che fa rispermiare qualche ora di lavoro perché è wordpress stesso che va a interrogarsi del perché alcune cose vanno o non vanno purtroppo ci sono delle persone che vorrebbero avere un sito in wordpress con dei plugin con immagini mobili quindi con delle java option eccetera 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 su che cosa su delle macchine poco performanti ah no o un server virtuale o un server fisico che non ha una capacità sufficiente per essere un server brillante e per quindi far girare il sito wordpress in maniera veloce e pimpante allora certe volte succede dove non arriva il processore no come tutti quanti i computer dove non arriva il processore interviene la memoria quindi se PHP non ce la fa perché magari ha difficoltà di fare input output sul database o che così si vede che il PHP domanderà sempre più memoria perché deve scrivere leggere scrivere leggere e dirà non ho memoria sufficiente per fare quell'operazione allora sempre l'amministratore dentro al file wp config PHP può tentare di vedere se c'è la disponibilità di usare più memoria per far girare praticamente PHP nel modo migliore con la funzione define wp memory limit 96m diamo 96 mega soltanto alle funzioni di PHP dopodiché ci sono siti che all'interno fanno girare per esempio gallery fotografiche che sono tremende se le fotografie non sono state adattate giuste per essere visualizzati su un sito web perché è inutile far girare delle fotografie da 2048 pixel lato lungo quando dopo il sito me le deve di nuovo ritrasformare 1024x768 no? lo che succede è che anche lì per fare tutti questi lavori di ritrasformazione delle immagini le deve fare on site cioè le deve fare wordpress e le deve fare nel momento della chiamata della galleria e lui ti dice benissimo io ho uno standard che mi pare sono 128 mega ma non ce la faccio oppure ti faccio vedere che non ce la faccio perché? perché la pagina si carica lentamente sempre l'amministratore che ha accesso nel file vpconf php può andare a fare la forzatura se il sistema ha i requisiti cioè se c'è memoria disponibile di dire praticamente che di utilizzare tutta quanta la memoria disponibile fino ad arrivare a un massimo a un limite massimo di 256 512 mega chiaro fin qua? bene qua il discorso del discorso della cache noi possiamo anche decidere che in un sito non vogliamo che il sito mandi cache agli utenti che lo visitano perché è una macchina performante e dicono io voglio che giri così allora posso fare un define vpcache true o false e quindi abilitare disabilitare questa opzione importante importantissimo si possono fare tante modifiche dentro questo file vpconf php ma non dopo quelle due righe di comando nel caso che il file sia scritto originariamente in inglese o in italiano dove c'è bar asterisco e viene messo il commento finito interrompere le modifiche one blogging eccetera oppure that is all stop editing non dovete andare a aggiungere comandi di define redirect eccetera dopo quella riga perché perché dopo quella stringa lì quella stringa lì è ben riconosciuta da wordpress e dice benissimo dopo quella stringa ho capito quali sono gli ordini messi dentro avpconf php comincio a elaborare quindi tutto quello che metterete dopo o viene generato come errore ma comunque non verrà eseguito bene temi il discorso dei temi porterebbe via mezza giornata perché perché uno dice a me serve un tema che sia utile semplicemente per i miei usi ma non ho intenzione di comprarne uno di spendere 90 120 250 euro per comprare un tema perché perché per l'uso che ne faccio mi vanno bene quelli gratis benissimo quelli gratis sono vengono realizzati anche da sviluppatori che sviluppano temi a pagamento sviluppano dei temi che hanno meno funzioni disponibili che hanno meno opzioni che servono per l'e-commerce però c'è anche un problema che sviluppano i temi anche persone che sono le prime armi e che non sanno scrivere bene ancora i codici di testo in linguaggio PHP il PHP se scritto male perché salta da una routine all'altra prima di uscire crea dei loop eccetera non farà nient'altro che rallentare l'intero funzionamento del sito WordPress quindi prendere un tema libero open gratuito ai suoi pro e ai suoi contro per cambiare i temi vedremo dopo che si va se la facciamo si va dentro nel menu di amministrazione aspetto temi verranno fatti vedere dei temi già disponibili precaricati o ci sarà la possibilità se la macchina è connessa ovviamente a internet in uscita come amministratore ci sarà la possibilità di andare nei repository gratuiti per selezionare altri temi come vi ho detto nessun professionista farebbe gratuitamente un tema no? però un professionista potrebbe fare un tema iniziale che ha metà delle possibilità del tema pro professional a pagamento per invogliare l'utente a provare la funzione chiamiamola limitata per dopo avere invece la funzione definitiva che è completa di ogni plugin dentro nelle pagine di un tema sono scritte anche queste in php e dentro nelle pagine del tema ci sono dei codici standard che permettono a google di localizzare e avere i dati praticamente del vostro sito wordpress se quei codici sono scritti male il page ranking del vostro sito cioè l'interesse la possibilità di trovare prima il vostro sito e dopo quello degli altri per argomento non avverrà perché se i codici di page ranking non sono corretti google non riesce a mettere il vostro sito nelle liste e di conseguenza il vostro sito rimarrà in terza questa sesta pagina dentro il motore di ricerca con un page ranking accurato e fatto ad hoc per le specifiche dei temi trattati dal vostro sito eccetera man mano che ci saranno visite quindi chiamate su google per accedere al vostro sito tipo vado su google cerco paoletto pn no lui in prima pagina proporà sia la mia url normale quindi https www e via ma anche sotto gli articoli scritti nel mio sito perché avendo un page ranking alto non solo mette il mio nome di dominio come primo ma anche praticamente tutti gli argomenti o le categorie che io tratto all'interno del mio blog quindi per far sì che un sito funzioni bene e non avere pensieri normalmente si va a prendere un sito eh sì perdon un tema a pagamento normalmente i due siti che sono maggiormente utilizzati per trovare dei temi ad hoc in base alla categoria di argomenti proposti o pubblicizzati o da vendere nel vostro sito sono theme forest e template monster e all'interno lì attraverso varie chiavi di ricerca andrete a specificare i vari temi e via via arriverete fino a avere una pagina con 4 o 5 temi e dopo lì selezionerete il tema in base al vostro piacere e gusto personale delle immagini o anche al valore del costo del tema stesso e qua abbiamo finito di parlare di vpconfig noi abbiamo detto che andando su aspetto e temi lui mi fa vedere che cosa dettagli del tema come vedete noi stesso stiamo usando i excel e lui l'ha messo come primo in alto a sinistra perché lì andrà a finire il tema che sta che viene utilizzato nel sito in maniera corrente successivamente gli altri temi verranno messi in ordine alfabetico come vedete ce ne sono altri no e si chiamano qua si chiamano Alexandria Blogbox Clean Journal quindi ogni tema come vedete è fatto per esigenze diverse c'è il 2014 questo qua che è uno dei temi gratuiti di Wordpress è fatto per chi gestisce utilizza o vuole promuovere immagini fotografiche o fotografie cose d'ambiente eccetera il 2017 sembra fatto da una persona o si da una persona da un programmatore che vuole vendere un tema per arredamento oppure per la casa e via così questi temi qua alcuni vengono inseriti automaticamente dal gruppo Wordpress alcuni invece vengono inseriti dall'utente in base ai criteri di ricerca perché noi qua sopra possiamo fare aggiungi nuovo tema e lui a questo punto va in internet no e gli dico vai a prendere i più popolari quindi siamo già in internet e come vedete alcuni vengono già proposti ma io se per esempio tratto voglio fare su un sito di abbigliamento dico questo qua potrebbe essere un tema che potrebbe andare bene per me benissimo semplicemente cliccando installa vado a installare questo tema all'interno della mia installazione Wordpress ma lo sto installando chi sta ancora guardando il mio sito fuori vede ancora i Excel perché solo dopo l'installazione noi avremo un pulsante che cambia in pubblicazione ok fin qua parliamo delle cose principali da fare quando entriamo per la prima volta impostazioni generali noi dobbiamo fare in maniera che la gente quando arriva sulla home page del nostro sito trovi le informazioni fondamentali giusto quindi il titolo del sito è quello che la gente leggerà sul bordino in alto della pagina del browser e quello che sarà il titolo esteso nella quella si chiama home template che sarebbe la parte alta praticamente della pagina principale il motto cioè se vogliamo metterci una scritta qua troverete questo questo quest'altro oppure il miglior sito realizzato per parlare di Linux Day è un motto che dopo noi potremo con altre funzioni successive decidere se far vedere oppure no l'indirizzo vero del nostro sito come vedete in questo caso l'indirizzo è un localhost quindi vuol dire che il sito sta girando all'interno di questa macchina non è stato pubblicato in rete quando noi andremo anche a rendere più sicuro questo sito installando un certificato di sicurezza e qua il buon Claudio ha scritto già un un articolo sul nostro wiki a riguardo installando il certificato di sicurezza sul sito di WordPress dopo dovremo ritornare in questa pagina e aggiungere che cosa la S nel indirizzo HTTP del nostro sito questa qua è l'indirizzo email al quale il sistema WordPress manderà le mail ogni qual volta ci siano aggiornamenti mal funzionamenti nel caso avviso per nuovi commenti oppure se ad opero dei plugin di sicurezza succedono delle chiamate strane verso il database vi dico dopo 5 chiamate strane verso il database in pochi secondi manda un warning dove manderà un warning a quell'indirizzo email lì un minuto giusto per finire questa pagina allora iscrizione ogni sito WordPress può avere la possibilità di offrire ai visitatori l'iscrizione cioè cosa significa ogni qual volta l'amministratore o l'editore pubblicherà un nuovo articolo verrà mandata una mail a quella persona all'indirizzo email che ha inserito al momento dell'iscrizione quindi non è nient'altro che cosa che un menu pop up dice come ti chiami qual è la tua mail no ti avviseremo ogni volta grazie invia quindi WordPress si fa carico di quell'indirizzo email lo mette dentro nel database ogni volta che viene scritto un articolo nuovo all'interno del sito c'è il sistema interno che sa che deve mandare una mail a quella persona proponendo l'indirizzo completo dell'articolo l'indirizzo internet url dell'articolo che è stato pubblicato sul sito dopo lingua del sito nella lingua nella quale uno desidera che tutti quanti i menu appaiano nel nostro caso italiano allora qua bisogna fare una parentesi in italiano lui installa tutta quanta la parte piattaforma WordPress ma se installo dei plugin se installo dei temi che sono stati scritti in lingua inglese lui i menu me li mette in lingua inglese dice ma come faccio io esiste un plugin ma non c'è tempo per parlarne adesso questo pomeriggio che permette da dentro a WordPress di entrare dentro al file di linguaggio di quel tema di quel plugin e appare una pagina dove a sinistra ci sono i termini inglesi usati in quel momento e in parte la proposta di traduzione in lingua italiana di quel termine inseriti i termini italiani è salvato in fondo lui va a riscrivere un file che si chiama it.mo e po che sono due file che servono a WordPress per interpretare la lingua di traduzione se il plugin è stato scritto bene bravo Claudio sempre se il plugin è stato scritto bene perché anche i plugin come i temi ci sono i plugin liberi e i plugin a pagamento come facciamo di solito a scegliere io consiglio di guardare come si fa su Amazon guardate le stelline e leggete le recensioni perché ci sono persone purtroppo ancora qua in Italia e anche qua l'inferno di Venezia Giulia che fanno tradurre il loro sito al Google Translator non ancora che aggiungo altro ecco dopodiché cosa diciamo gli orari che appaiono di quando è stato scritto un articolo quando è arrivato un commento se li vogliamo nel fuso orario di Greenwich oppure UTC più 1 meno 1 più 2 in base al fuso corrente come vogliamo che venga visualizzata la data di modifica o di pubblicazione degli articoli e basta non ricordo altro si formato ora e poi vabbè la settimana inizia di lunedì oppure qualsiasi altro giorno questa funzione normalmente non non la vedrete usata all'interno di Wordpress a meno che non abbiate una pagina che gestisce un calendario se avete un calendario grafico allora in base a questa selezione lui inizierà la quadrettatura del calendario invece del numero sì dell'ordine numerico da 1 a 30 1 a 31 quelli che sono i giorni del mese lui inizierà per giorno della settimana ok altro tempo non ne ho ci sarebbero altri 20 menù da da dover guardare ma per adesso è così se avete desiderio di ampliare il discorso come avevo già detto l'altro anno all'interno dell'UG possiamo pensare a fare dei corsi serali sulla gestione e l'amministrazione di Wordpress però bisogna almeno raggiungere quelle 15 16 persone quindi contattate il Linux User Group tramite gli indirizzi mail o tramite il numero di telefono se riusciamo ad avere un numero congruo di persone interessate sono disponibili tranquillamente a fare delle sessioni di corso a forma gratuita buon divertimento con Linux Day e ci vediamo dopo grazie